Continua a Lavana l'omaggio a Fidel Castro Rus, il leader massimo della rivoluzione scomparso a 90 anni. Oltre ai cubani a rendere omaggio arrivano capi di Stato e di Governo da ogni parte del mondo. Col presidente boliviano Evo Morales e il suo omologo venezuelano Maduro, anche il premier greco Alexis Tsipras. È un grande onore essere qui a rendere omaggio a questa grande personalità, fonte di ispirazione e non solo a Cuba in America Latina, ma in tutto il mondo. Tributo a Fidel anche nelle ambasciate cubane di tutto il mondo. Qui siamo a Pechino, dove si è recato in visita di condoglianze il presidente Xi Jinping. Analoga scena a Mosca col ministro degli esteri Lavrov, che depone un mazzo di fiori, e a Pyongyang, dove il presidente nordcoreano Kim Jong-un ha firmato il libro delle condoglianze nella rappresentanza diplomatica cubana. Nel secondo giorno del lungo lutto nazionale proclamato a Lavana, i cubani continuano a sfidare il sole e l'attesa pur di rendere omaggio a Fidel, le cui spoglie verranno seppellite il 4 dicembre a Santiago de Cuba, accanto alla tomba di José Martí, l'eroe nazionale cubano.